Nome in codice Capuccetto Rosso, attività spacciatore di eroina e con sé non aveva doni come il personaggio fiabesco ma a dosi di stupefacente che vendeva al costo di 40 euro. Lo spacciatore che col suo copricapo di colore rosso si era guadagnato il soprannome è un nigeriano di 39 anni senza fissa dimora, arrestato assieme ad altri 6 sempre per reati vari legati alla droga dagli agenti della mobile e dalle volanti dei commissariati di Pesaro, Fano e Urbino. Era diventato un vero e proprio punto di riferimento per eroinomani pesaresi e fanesi che ormai sapevano bene dove trovarlo, nel parcheggio dell'ipercop pesarese dove si muoveva con estrema facilità e velocità utilizzando una bicicletta. Lo hanno colto in flagranza di reato gli agenti della volante mentre riforniva uno dei suoi clienti che giornalmente lo frequentavano facendogli guadagnare più di 1000 euro al giorno. Un altro arresto effettuato dalla mobile riguarda un italiano 43enne di San Costanzo incensurato di professione operaio nella cantieristica navale che a causa della crisi ha pensato bene di aumentare le entrate spacciando cocaina. All'interno della sua abitazione gli agenti hanno trovato bilancini di precisione, 80 grammi di coca già suddivisa in dosi, 60 grammi di ascis e materiale per il taglio. Lo spaccio di eroina segna un fenomeno in aumento, come ci segnala il dirigente Stefano Seretti, dato che per l'elevato costo della cocaina molti tossicodipendenti passano all'eroina che ne costa la metà.